Musica Sole, belle donne, palme, feste, tante star e grandi registi Il Glamour, l'arte, il Palais du Festival, le Montes de Marche, tutto questo è il Festival di Cannes E a parlarci dell'ultima edizione, appena reduce dalla croasetta, ancora con la valigia piena di gadget e di appunti Il nostro inviato festivaliero, Gian Piero Eccoci qua, eccoci qua Gian Piero Gian Piero, ma hai ancora il proprio on? Per forza, a Cannes senza proprio on non si entra neanche in sala, quindi era il minimo Come è stato quest'ultimo Festival di Cannes? Guardando il programma c'era il meglio del cinema mondiale, c'erano gli autori, René, Almodovar, gli americani, Sam Raimi, Tarantino Gli orientali Assolutamente, Parcianuk, Zeming Yang, poi tanti altri, Gilliam, Bellocchio Insomma, era veramente il meglio di quello che può finire oggi il cinema Con tutti questi nomi sarà stato sicuramente un grande festival? Beh, non sempre grandi nomi significa grandi film, ci sono state delle sorprese e delle delusioni, come in tutti i festival E quali sono i film che ti hanno sorpreso? Su tutti Ang Lee, io sono tra quelli che era rimasto un po' deluso ai due delusioni d'oro vinti da Ang Lee Per cui sono entrato in sala un po' dubbioso, invece il suo avvicinamento a Wustock, il suo taking Wustock È un piccolo gioiello, un film indipendente americano, cosa strana per Ang Lee Da un punto di vista strutturale e narrativo, che colpisce nel segno Un piccolo consiglio, il trip acido del protagonista nel finale del film è un gioiello Così come non delude il magnifico Looking for Eric di Ken Loach Assolutamente, anche qui una piccola sorpresa, se pensiamo al Loach storico Quello di una Inghilterra triste, grigia, piena di problemi Qui invece è una storia, un racconto sognante, una sorta di commedia Che trasforma quella Londra grigia, quella periferia grigia che si vede all'inizio del film In un posto sognante, in un giardino in cui fare jogging addirittura nel finale Quindi anche questa pellicola, se si vuole, è una piccola sorpresa, molto riuscita Però hai detto che comunque le delusioni ci sono state Sì, da fan la prima di tutte è Parcianuc La sua sete è una pellicola, un horror orientale come se ne sono visti tanti Soprattutto per chi frequenta questo genere Della mano del regista, della sua bravura visionare, della sua capacità di giocare con le immagini Con i colori a cui ci aveva abituato non c'è praticamente nulla Quindi chi si aspettasse questo rimarrà inevitabilmente deluso Però ha vinto comunque il premio della giuria? Ha vinto il premio della giuria un po' esplicabilmente Eseguo, e qui no, meritatamente, con Fish Tank del regista Andrea Arnolds Che conferma il suo talento Ecco appunto, parliamo un po' dei premi, il palmarès Cominciamo ovviamente con la meritatissima Palma d'oro a Michele Laniche Per il suo The White Ribbon Palma d'oro che lui aveva sfiorato già in precedenza in altre edizioni del festival E che quest'anno raggiunge con un film molto intenso e molto difficile Una pellicola che come sempre unisce quei temi di violenza nascosta, di forza tipici del regista A una struttura rigida, rigolosa, un bianco e nero molto bello che imprigiona questa forza e questa potenza Un film che ne esce dunque molto intenso ma al tempo stesso molto difficile da vedere Probabilmente non avrà gran successo di pubblico perché è veramente una pellicola ostica Ma per chi ama il cinema è una pellicola da vedere E invece i premi agli attori? Ma guarda, i premi agli attori sono stati dati a due film per versi diversi molto discussi Il premio all'attore maschile l'ha vinto Christopher Waltz Per The Inglour of Busters di Quentin Tarantino Finché si attendeva molto, perché ovviamente dovunque c'è Tarantino c'è attesa Quello che doveva essere il remake di Quel maledetto termoblindato di Castellari In realtà poi non è stato proprio un remake È una pellicola molto vicina all'ultimo stile tarantiniano È una pellicola molto parlata, molto costruita da questo punto di vista Che gioca proprio sulla forza dei suoi personaggi In particolare su quello di Waltz che interpreta un Gerard Canazzista Tra l'altro si è lasciato sfuggire una battuta non troppo felice dopo aver vinto il premio su questa cosa Ma ha la particularità di parlare quattro lingue Insomma è un attore poliedrico all'interno della pellicola che merita sicuramente il premio L'attrice femminile invece è stata Charlotte Gainsbourg per il film di Von Trier Antichrist Probabilmente il film più discusso Io preferirei non esprimermi su questa pellicola perché secondo me è l'ennesima provocazione del regista Violenza a tratti estremamente gratuita e quindi lascerei andare Sicuramente il premio è meritato perché lei è molto brava Un altro premio meritato è quello al film di Jacques Odiard, Un Prophet Che fino all'ultimo momento era dato come Palma d'Oro Come probabile Palma d'Oro insieme anche al film di Gianno Lillo Origine Esattamente, erano dati forse anche per l'amore dei francesi per i propri film Come possibili vincitori della Palma d'Oro Il film di Odiard è un film particolare perché unisce a una struttura, a un'idea di genere Che è quella di un prison movie, un'introspezione, una costruzione di personaggi molto particolare Gioca sul rapporto tra fuga e evasione, visto non tanto come fuga e evasione dal carcere Nello tipico stile di questo genere, ma come un modo per continuare l'attività del criminale Anche nel momento in cui questo è prigioniero Un film molto particolare e molto interessante Per quanto riguarda poi gli altri premi, ci sono due premi abbastanza incomprensibili Ovvero regia e sceneggiatura perché la regia è stata vinta da Brillante Mendoza per Kina Tai Che è un film che lascia abbastanza libiti Fermo restando che Mendoza resta uno dei più importanti registi filippini attualmente in circolazione E che ha una caratteristica molto precise Film abbastanza rarefatti, quasi fermi e al tempo stesso molto violenti C'è un toglie che sembra molto discutibile la decisione Soprattutto vedendo che cosa poteva offrire quest'anno il concorso La sceneggiatura è stata vinta da Spring Fever di Liu Ge Che è un film cinese, anche questo non particolarmente rilevante sia da un punto di vista di scrittura che di film Beh a questo punto la sceneggiatura poteva andare al film di Ken Loach Assolutamente Se uno dovesse scegliere tra le due pellicole quella di Ken Loach è scritta in un modo molto più divertente E molto più costruito se si vuole L'intreccio della pellicola di Ken Loach, l'intreccio di Laverty è meraviglioso Per cui cosa ci aspettiamo dal prossimo Cannes? Che cambiamenti? Non so perché Cannes è sempre una sorpresa Negli ultimi anni ha avuto dei programmi molto pieni di nomi Grandi registi, spesso grandi film E quindi io mi attendo un'altra edizione di Cannes, sempre molto ricca Mi piacerebbe avere l'occasione ogni tanto di parlare delle sessioni parallele Perché spesso lì che si trovano delle pellicole più interessanti, più particolari Lontane dalle luci della ribalta del Red Carpe, della Monte de Marche Dei grandi nomi ma spesso più caratteristiche Probabilmente è lì che bisogna cercare il futuro del cinema Grazie mille Gian Piero Grazie a voi